Un'altra presenza femminile di grande spicco già stata sul palco del teatro moderno con Miss Universo, Angela Finocchiaro questa sera porta in scena il suo nuovo spettacolo Mai più soli, un altro testo di Stefano Benni, ce ne parla? Dunque sì, innanzitutto faccio due precisazioni, è uno spettacolo che in realtà gira ormai da tre anni ed è frutto di un saccheggio nel senso che non è che Stefano l'ha proprio scritto ma questa volta sono andata io come a rubare da varie sue produzioni sia per esempio articoli per quotidiani, filastrocche, poesie, racconti, brani di libri e non sono sola sono con Daniele Trambusti e quindi come dire abbiamo fatto un po' una sorta di pacchetto regalo diciamo e il titolo prende spunto da un pezzo che interpreta Daniele Trambusti sulla solitudine che poi ha un filo rosso che corre nello spettacolo in maniera anche tra l'ironico, il poetico e il drammatico perché mescola proprio nella capacità di Benni dei pezzi assolutamente esilaranti come per esempio il modo di passare il capodanno di ognuno di noi a seconda del carattere con altri molto poetici sulle morti bianche o appunto a quello di Daniele su questa solitudine di un uomo che si compra dei cellulari e fa finta di parlare, in realtà è lui che si telefona che poi finisce in una maniera particolarmente drammatica ma sempre su quel filo dell'ironia che è tipico di Stefano. Come avviene ogni volta la scelta dei testi che poi porterà in scena? Dipende perché per esempio adesso l'autore di Miss Universo Walter Fontana sta scrivendo un nuovo spettacolo su cui ci siamo dati in qualche modo una tematica molto generale cioè l'eredità che i genitori lasciano ai figli, su quella si è cominciato un po' a lavorare a grandi linee, lui sta provando a scrivere, poi si legge insieme, si discute diciamo che sono o degli innamoramenti per delle cose esistenti come nel caso adesso di Benny questa volta oppure magari degli argomenti che ci interessano su cui ci va di studiare, di elaborare e piano piano ci vuole anche un po' di tempo, si costruisce uno spettacolo. Angela Finocchiaro è in scena da più di 30 anni e ha fatto un po' di tutto, radio, tv, cinema, tuttora infatti la troviamo a teatro con Mai più soli, al cinema con Aldo Giovanni e Giacomo nel film La banda dei Babbi Natale se non erro e anche in televisione con Savino, Pasotti e Impazzatore se non erro Sì, no, quella cosa lì in realtà è stata rimandata e non si sa quando tornerà invece una cosa che ci tengo perché siamo felicissimi di questo risultato, di questo film e di Benvenuti al Sud che è un film che io, come dire, in maniera esagerata dico unito il nord e il sud perché al sud e al nord ridono negli stessi punti per cui è molto piacevole questa risata di comunione, è un film che ha vinto il biglietto d'oro perché è stato il primo negli incassi, non essendo un film di Natale, per cui ci ha fatto molto piacere perché è stato un caso, è un remake di un film francese ed è stato un caso particolarmente fortunato e anche inaspettato così tanto di questa reazione del pubblico così bella e gratificante Che se non arro si sta già preparando, benvenuti al nord, giusto? Lei sarà nel cast? Sì, dovremmo essere gli stessi però non so se continueremo con gli stessi ruoli cioè forse non sarò più la moglie di Bisio, è una fortuna devo dire Quello che mi incuriosiva è sapere se appunto lei ha sempre voluto fare l'attrice o da piccola aveva immaginato di fare qualche altro mestiere? Francamente non me lo ricordo, sicuramente io andavo al liceo, poi ho iniziato a università contemporaneamente ho iniziato a lavorare in teatro con dei gruppi, delle cooperative che lavoravano in particolare quelli di Grock e il Teatro del Sole lavoravano il Teatro del Sole nelle scuole, facciano spettacoli per i ragazzi e quindi ad un certo punto ho lasciato l'università e ho continuato questo lavoro che evidentemente poi era quello che desideravo, anche se è una cosa che scopri giorno per giorno in qualche modo Tra teatro e schermo, piccolo, grande che sia, qual è la realtà che la gratifica di più? No, in realtà tutte perché siamo molto onnivori e desiderosi di provare qualsiasi cosa per cui un attore che ha la possibilità di potersi esprimere da una parte e dall'altra fa un po' parte dello stesso lavoro, ci sono dei criteri diversi però diciamo che comunque il teatro è un po' una sorta di matrice, di padre, di madre, di radice forte per cui non lo lascerei mai il cinema è un grandissimo innamoramento la televisione dipende dalle proposte perché alle volte i tempi di produzione televisivi sono più incalzanti quindi diciamo la libertà più forte uno ce l'ha in teatro perché può fare dei piccoli progetti e non dipende da nessuno quindi ha una libertà creativa ed è indipendente in teatro, in cinema si muovono più soldi per cui può essere più complicato e non dipende spesso da te e in televisione questo problema economico è ancora più vistoso per cui alle volte cercare di sperimentare o di studiare in televisione è quasi impossibile almeno per come l'ho vissuta io Mi ha parlato molto bene del teatro pensa che come azione educativa posso aiutare i giovani di oggi? Beh non c'è dubbio ma in generale come dire un approccio alla cultura nelle sue varie forme l'importante è tipo appunto che i primi spettacoli che vedano i ragazzi magari con la scuola non siano proprio tremendissimi perché quando si comincia da uno spettacolo sbagliato due sbagliati molto noiosi, lontanissimi da loro senza magari essere veramente preparati è la volta in cui magari si abbandona totalmente perché il teatro va insieme con la parola noia cosa che non è vera però spesso si pensa che sia così Lo propone anche come una materia proprio scolastica questo non ho idea potrebbe essere interessante però per come siamo messi mi sembra che riuscissimo a fare bene quello che abbiamo sarebbe già una cosa ci sono poi delle scuole più avanzate che hanno questo approccio questa vicinanza che serve tantissime ragazzi per esprimersi soprattutto nell'età dell'adolescenza quando un contatto c'è il contatto fra la scuola e i loro problemi si distacca totalmente ed è il momento invece dove loro avrebbero più bisogno di non sentirsi soli È quasi Natale che cosa vorrebbe trovare sotto l'albero? Io? Serenità tanto per essere banale Posso chiederle un'ultima curiosità nei suoi ruoli cinematografici spesso teatrali è sempre molto pimpante allegra, positiva lo è anche nella vita vera? No, per niente per cui ebbè ma infatti questo lavoro mi aiuta non è che sia proprio lo amo, lo adoro e in più mi aiuta è più severa quindi più seria sì, sì, sicuramente la ringrazio a voi grazie mille grazie, buon Natale, buone feste